12 anni, quando ha giocato? 12 Sì, mi offendo Mi ha portato il nome Giovisello Oh PC Ma che cazzo Come volo, Letty Ciro il parco del Napoli di Regna Ma che meme, ma è bellissimo Ciro il barbiere Ma dovete... Eh, non c'è problema, un attimo iniziate il gioco a sentirli La squadra d'attacco ha trovato la bomba 10 secondi 55 Ma tu a posto, o fa? O fa, tu ma parlo cazzo A farmi un cacchi da morta De morta e nonna De morta e nonna 55 da nonna De morta e 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 nonna Cazzo! No, dove c'è il giro? No, dove c'è il giro? No, dove c'è il giro? Ma non ti metti là, vicino! Madonna! Ma le scimmie! Ma le scimmie! Ma non ti gioco, per favore! Frappe, dove sei? Frappe, le scimmie! A un certo punto... Frappe, devo cercare di fare la clip, devo cercare di fare la clip, aspetta!